Riposare in modo sano, rigenerante e appagante è un desiderio che il fabbricatore può aiutarvi a realizzare. Il futuro è qui e per dimostrarvelo oggi vi presento un materasso assolutamente nuovo, il Body Memory Plus. Il Body Memory Plus fabbricatore è un materasso elegante, ergonomico e conveniente. Infatti oggi potete avere il singolo a 278 euro e il matrimoniale a 398 euro. Fidatevi, per stare meglio bisogna dormire meglio e con questo nuovo materasso è finalmente possibile. L'innovativo design del Body Memory Plus è progettato per sostenere ancora meglio la vostra schiena e donarvi il riposo che meritate. Anni di ricerche ci hanno permesso di rendere il Body Memory Plus ancora più ergonomico, trovando l'interazione ideale tra lattice e memory. Il lato in lattice infatti, oltre a essere traspirante, è anche antiacaro. Per questo può regalarvi un riposo sereno e privo di allergie. Per sempre, ha ben 7 zone di densità diverse. Studiate per sostenere ogni parte del vostro corpo e garantirvi una postura ideale per tutta la notte. È adatto a chi dorme sul fianco, a chi preferisce dormire di schiena e a chi riposa a pancia in giù. Invece, il lato in memory, materiale innovativo o frutto della ricerca aerospaziale, è stato realizzato per modellarsi esattamente alla forma del vostro corpo. È perfetto per ogni corporatura e per ogni età. Il Body Memory Plus vi aiuterà a rendere ancora più piacevole il vostro sonno. È proprio così. Il Body Memory Plus unisce in modo innovativo l'elasticità e la traspirabilità del lattice all'estrema comodità del memory. Un materiale capace di sostenere il nostro corpo, assumendone perfettamente la forma, per poi tornare al suo stato originario. Il Body Memory Plus è 100% made in Italy e garantito a 10 anni. Ricordate, bastano 278 euro per avere il materasso singolo e 398 per quello matrimoniale. Pagabili anche a rate e in regalo, una grande novità. Due cuscini in gel e memory, ergonomici e freschi. Svegliarsi veramente riposati, ora è possibile, grazie al Body Memory Plus fabbricatore. Oggi potete avere il materasso singolo a 278 euro e quello matrimoniale a 398 euro. Provate personalmente la qualità dei nostri materassi. Chiamate subito il numero in sovrimpressione e prenotate una consulenza personalizzata e gratuita. Così avrete a casa vostra tutta la professionalità fabbricatore e potrete scegliere comodamente il vostro materasso ideale. Riposare in modo sano, rigenerante e appagante è un piacere a cui nessuno dovrebbe rinunciare. Con il Body Memory Plus ci riuscirete anche voi. Anni di ricerche ci hanno permesso di trovare l'interazione ideale tra lattice e memory. Infatti, il lato in lattice del Body Memory Plus ha ben 7 zone di densità diverse, ciascuna studiata per sostenere ogni parte del vostro corpo e garantirvi una postura ideale per tutta la notte. Invece, il lato in memory, materiale frutto della ricerca spaziale, è stato realizzato per modellarsi perfettamente alla forma del vostro corpo. È ideale per chi dorme sul fianco, per chi preferisce dormire di schiena e per chi riposa meglio a pancia in giù. Il Body Memory Plus è 100% made in Italy e garantito 10 anni. Ricordate, bastano 278 euro per avere il materasso singolo e 398 per il matrimoniale, pagabile anche a rate. In regalo, una grande novità, due cuscini in gel e memory, ergonomici e freschi, valgono oltre 100 euro. Chiamate subito il numero in sovrimpressione.